Bella ragazzi, qui è Nexus e questo nuovo commentary su Darksider 2 Dunque, nello scorso episodio abbiamo fatto questo pezzettino qui Di portali, non è che abbiamo fatto intanto Adesso dobbiamo andare a vedere cos'è con la palla laggiù Qui è pieno di catave Muori Ma che cazzo è successo? Ho fatto io? Ma che storia? Non ho ben capito come funziona ma Non capisco, come non ti vado? Ma no, arriva a faccuro Come ho fatto ad attivare Sì, non è questo BASTA Né qui si è impallato il joystick C'è il joystick e il mouse Allora, vediamo un attimo Di sotto mi era sembrato di aver visto qualcuno Ma mi sono sbagliato Che cazzo è sta palla? Ma te mi metti No, pezzo di tanto Terremoti così a random Mmm, non bisognerà mandarlo laggiù? Beh, beh Oh, ma che storia Capito Andiamo avanti Oh, ma c'è un forziere Ma che cazzo? Cioè, ma Non c'era fino a due secondi fa? Madonna mia Cattiva Non c'era prima, vero? Oh? Che roba strana Cadavere Posso andare Dovei Mettermi la sacca qua Perché sennò Stagente non ci dovrà Devo metterci tre anni Non ho una pistola Ci metti due secondi Mmm Si può entrare Si dovrà entrare? Perchè è verde questo? Polca sarnia Boh, andiamo sotto Andiamo cosa c'è Mmm Per me Il meggio non ho avuto carico No, aspetta Vediamo se come penso io Come lo chiuso Il portale Questo non capisco Si può anche chiudere Ma Non capisco il nome Eh Pensavo che Io Entro qua dentro Invece no Troppo potente Boh Andiamo Non so Come fare Altrimenti Guardate Visto che Non riesco A chiuderlo Ma pa culo Pensavo funzionasse E poi Devo ancora capire bene Come ho fatto Ad attivare Quella cosa lì Le braccia Fantasma Porca troia Porca troia Questo è molto difficile Via Allora Portiamo Portiamo Poi 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 Non so se te lo dico Ma Non è molto reale Ma No ma Cioè sono forti Però attaccano troppo lento Che è? Non lo vedo Troppo fuoco Troppe esplosioni Muori Uh posso farla Contaginare Aia Ma lo l'ho sentito anch'io Fa male Doh Ma lo andiamo Va che va che so Sì Non forma Non forma mitito Non ho idea Fa culo Ho dovuto tenere premuto Dove l'altro Va bene E' giusto però comunque L'importante è quello Ah bisogna salire Sì ma Su Traia non si vede niente Oh Vedremo qui cosa fare Se questo Mi è tutto corrotto Se questo video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi al mio canale Ma soprattutto Commentate Grazie a tutti